Venerdì 24.15 è l'Open Day della Scuola Calcio Ufficiale del Taranto FC. Per partecipare è necessario compilare la scheda Open Day Scuola Calcio Taranto FC che trovi online sul sito www.tarantofc.it. Vi aspettiamo numerosi. Venerdì 24, dalle 16.30 alle 18, presso il Citi Taranto, in via Consiglio, strada per Oshan.